Buonasera a tutti, sono Ferdinando Gottard di Edicom Edizioni e vi do il benvenuto a questo webinar che, come vedete dalla slide iniziale, ma anche dagli video che ovviamente avete ricevuto, è dedicato al tema del costruire in muratura, in particolare affronteremo le questioni che riguardano la progettazione di quella che abbiamo intitolato nel webinar di oggi la sicurezza strutturale e parleremo quindi in particolare di quella che è la muratura portante in zona sismica. Questo webinar fa parte di un ciclo di iniziative che abbiamo, iniziative online ovviamente, che abbiamo dedicato proprio alla costruzione di laterizio in collaborazione con T2D che è un'azienda appunto che produce laterizi poizzati e con il Consorzio Porto in Italia che invece è il Consorzio che raggruppa le aziende che producono laterizi poizzati. I relatori di oggi che vedete già collegati sono l'ingegnere Flavio Mosole che è un tecnico appunto del Consorzio Porto e l'architetto Luca Mazzucchelli che invece è un tecnico che lavora per l'azienda T2D. Oggi vedremo un po' sia quelle che sono le soluzioni tecniche ma anche gli accorgimenti progettuali più significativi per progettare e realizzare edifici ovviamente nel pieno rispetto della normativa nazionale in materia di sicurezza sismica e strutturale vedendo un po' che quali sono le accortezze da tenere presente sia nella progettazione che nella fase di realizzazione. Come sempre io vi ricordo che al termine del webinar qualche ora dopo riceverete una mail con il link dal quale scaricare la slide in pdf della presentazione che verrà fatta oggi e vi ricordo anche che in qualsiasi momento potrete porre domande ai nostri relatori digitandole, scrivendole nel pannello domande alla vostra destra in GoToWebinar, quello che molti di voi stanno utilizzando in questo momento per salutarci, ricambio i saluti di tutti, vi auguro una buona serata e un buon webinar e iniziamo subito innanzitutto con una brevissima introduzione di Luca Mazzucchelli su quello che è un po' il perché utilizzare l'atterizio che è un materiale antico, antichissimo anzi, ma sempre di attualità e quindi capire perché anche oggi vale la pena utilizzare questo materiale e quali vantaggi ha. Prego Luca. Grazie, grazie Ferdinando e un saluto cordiale a tutti e soprattutto un ringraziamento per la disponibilità. Allora noi come azienda da sempre puntiamo il dito su quella che è la qualità delle abitazioni, quindi di arrivare a confezionare un prodotto che possa produrre un manufatto che si può dire sicuro. Per quanto riguarda l'aspetto strutturale, sicuramente un aspetto durevole dell'abitazione, quindi sappiamo l'atterizio che storia millenaria ha, un aspetto confortevole, questo è un aspetto che abbiamo già visto negli altri cicli e l'abbiamo già preso in considerazione, soprattutto su tutto l'aspetto termicometrico e non ultimo, un aspetto a quale noi teniamo parecchio molto, è l'aspetto sostenibile. Allora, oggi punteremo l'attenzione su quello che è il discorso sicurezza. Quando parliamo di sicurezza nelle abitazioni dobbiamo prendere in considerazione due aspetti fondamentali, vediamo la slide successiva che sono la parte di resistenza al fuoco e la parte, quella che come ho detto vedremo oggi più in modo approfondito, la sicurezza in caso di eventi sismici. Come sappiamo l'Italia è stata praticamente rivoluzionata sotto l'aspetto di zone sismiche, ormai tutta l'Italia è considerata zona sismica con più o meno gradi di pericolosità sismica. Noi come azienda abbiamo fatto subito dopo gli eventi sismici del 2016, abbiamo fatto una ricerca in collaborazione con il consorzio Poroton intorno allo stabilimento di Todi, quindi tra l'Ombria e l'Abruzzo, abbiamo fatto una ricerca, una ricerca attraverso il nostro centro di ricerca chiamato Safety Lab, dove abbiamo analizzato diversi casi, che poi dopo vedremo successivamente e con il quale siamo riusciti ad arrivare a determinare una nuova muratura chiamata poi muratura armata 2.0 ma che vedremo in fase dopo con l'ingegnere Flavio Mosel. Noi abbiamo 100 anni di esperienza per quanto riguarda l'aspetto di sicurezza, soprattutto sotto l'aspetto di sicurezza a livello di resistenza a compressione, quindi di resistenza per quanto riguarda la parte centrale del nocciolo, quindi dell'aspetto di evento sismico con la quale abbiamo approfondito un discorso di prevenzione col quale vedremo successivamente questo confezionamento come verrà fatta l'abitazione. Lascio adesso la parola al Consorzio Poroton, all'ingegnere Flavio Mosel che tratterà la materia in modo molto più approfondito. Benissimo, grazie Luca. Io prima di lasciare la parola a Flavio Mosel vi ricordo che torneremo ancora sull'argomento della progettazione della sicurezza strutturale con un prossimo webinar che sarà il 17 novembre, sempre a quest'ora, quindi alle 17, in cui affronteremo la progettazione della muratura armata. Ma adesso concentriamoci insomma sul webinar di oggi che invece affronta quella che è la progettazione della muratura portante e della sicurezza strutturale anche in zona sismica. Prego, Flavio. Sì, buonasera a tutti. Bene, oggi parleremo di costruzione di muratura portante a livello generale, e quindi soprattutto muratura ordinaria, ma daremo degli spunti che svilupperemo poi relativamente alla muratura armata nell'incontro di settimana prossima. Progettare la sicurezza strutturale lo affronteremo come tema secondo l'indice che vi ho riportato qui di seguito. Entriamo subito nel primo punto per iniziare a fissare i concetti chiave e anche avere un po' di riferimenti sia sperimentali che disunti dalle ricognizioni post-remoto di cui accennava l'architetto Mazzucchelli, e ovviamente con stretto riferimento anche agli aspetti normativi che bisogna necessariamente applicare per fare qualunque tipo di costruzione. Allora, parlare di sicurezza strutturale in Italia appunto significa confrontarsi con la pericolosità sismica. Questi sono una tabella, un grafico che ci fa vedere i terremoti che sono avvenuti o nell'ultimo secolo o dall'85-2014 le mappe di sismicità sulla destra. La sostanza qual è? Tutta Italia è sismica, c'è un forte terremoto ogni 3-4 anni che colpisce l'Italia, per forte terremoto si intende una magnitudo da 5-8 in su, che causano danni. Quindi noi conosciamo la mappa di pericolosità che poi tiene conto degli archivi di terremoti ma anche degli studi sulle faglie sismogenetiche e semplifichiamo il tutto con la mappa di zona azione sismica. Segnalo sulla fattispecie della mappa che dal 2015 fino proprio al 2020 ci sono stati tutta una serie di aggiornamenti che hanno interessato soprattutto il nord-ovest, le regioni di Lombardia, Piemonte, un po' l'Emilia-Romagna, un po' la Liguria. E quindi mi raccomando alle zone sismiche perché da un lato, come vedremo poi, dalle norme tecniche 2018 sono completamente scomparse, però continuano a essere essenziali per gli aspetti amministrativi e per l'applicazione adesso del Sisma Bonus e del Super Bonus che si applica esclusivamente in zona sismica 1, 2, 3. Quindi vedete che le zone grigie sono escluse da zona 4. Chi volesse conoscere il comune in cui si troverà a lavorare, volesse conoscere la zona sismica di quel comune, può collegarsi al nostro sito. Vediamo se va in collegamento, così ve lo mostro. E c'è un semplice applicativo che è in grado di mostrarvi sostanzialmente la zona sismica, poi anche la zona climatica in cui vi trovate a lavorare. E banalmente qua inserite la vostra provincia, Torino, e vi trovate la lista di comuni con la classificazione. Entriamo, parlato insomma del discorso della pericolosità sismica, che ci ha ricordato che tutta Italia è sismica con diversi livelli di pericolosità. E passiamo al lato delle costruzioni. È necessario quindi realizzare delle costruzioni che siano in grado di resistere a queste accelerazioni orizzontali prodotte dai sismi. E quindi stiamo parlando della vulnerabilità delle costruzioni, l'altro grande parametro che è determinante sul risultato in seguito di un evento sismico. Su questo fronte segnalo in particolare quello che è accaduto in seguito ai terremoti a Friuli 76 e Irpini 80, perché l'ingegneria sismica esisteva in Italia da almeno 100 anni, però in seguito a questi due eventi sismici sono partiti tutta una serie di studi, sia teorici che pratici, tecnici di sviluppo, sistematici, che hanno permesso di identificare le lacune delle costruzioni dell'epoca, che erano sostanzialmente costituite dalla scarsa qualità della muratura in pietrame, male collegata. Solaio in legno per gli orizzontamenti di scarsa qualità, disarticolati nel loro piano e mancanza di collegamenti tra i vari elementi strutturali. Questi studi hanno portato a classificare in maniera chiara quelle che sono le principali lacune e le qualità anche dei sistemi di ricostruzione in muratura. Parlando quindi della muratura esistente, focalizziamo tre punti. La qualità della muratura è un elemento negativo, perché può portare a collassi parziali o totali dell'edificio, e poi dal punto di vista del comportamento globale dell'edificio, estremamente negativo è il ribaltamento fuori dal piano. La parete infatti è vulnerabile per l'azione fuori dal piano. Vedete questa è una foto di Messina in seguito a terremoto del 1908. Gli edifici sono sostanzialmente in piedi, ma è la facciata che è ribaltata. Questo perché? Perché non era correttamente collegata, ammorsata con solaio, con murature parallele. Perché? Perché la qualità della muratura è resistere alle azioni orizzontali nel piano di giacitura, parallele al piano di estensione della parete. Magari sviluppando del danneggiamento, come le classiche croci di Sant'Andrea sui maschi murari. Quindi quello che vogliamo è questo, evitando le principali lacune che sono rappresentate a questi due punti. Da questa considerazione è nata quindi la muratura moderna. Innanzitutto la qualità della muratura, con una tessitura a regolare, giunti di malta più o meno di un centimetro, malte cementizie, dalle proprietà ben definite, e soprattutto elementi resistenti in laterizio, di geometria ben definita, proprietà meccaniche ben conosciute, in modo che la qualità muraria non sia un problema. Poi per quanto riguarda il comportamento globale, cosa succede? Dobbiamo far lavorare le pareti nel piano ed evitare il ribaltamento fuori piano. E questo si fa creando i collegamenti, ammorsamenti tra le pareti, collegamenti tra solaio e pareti, in modo che ci sia una distribuzione delle azioni orizzontali, tali da far sì che nessuna parete ribalti fuori piano, e tutte le pareti lavorino come meglio riescono, cioè nel proprio piano. Questo significa perseguire il comportamento scatolare dell'edificio. Quindi questa è la muratura moderna. Adesso l'abbiamo semplificata, quasi banalizzata, ma ci tengo a sottolineare che stiamo parlando di decine di anni di ricerca e di sviluppi produttivi. Quindi partendo dal materiale, il blocco, la malta, passando attraverso prove su settimurari a scala reale, fino a tavole vibranti edifici reali, ulteriormente affinate con altre ricerche sia su muratura ordinaria che su muratura armata, che poi hanno trovato riscontro all'interno delle normative, il famoso decreto 87 e il decreto 96. Anche prima si parlava un po' di muratura, ma questi sono quelli che determinano la fotografia della muratura moderna, più o meno come la conosciamo oggi. Diciamo che questi 30-40 anni di ricerca ci hanno permesso di sviluppare, non solo sistemi costruttivi sicuri e affidabili, ma anche metodi progettuali adatti a garantire costruzioni sicure dal punto di vista sismico. L'ultimo passaggio è stato con l'arrivo delle norme tecniche del 2008 attraverso le ordinanze varie che hanno fissato i paletti sulla pericolosità sismica del territorio nazionale e con le norme tecniche c'è stato un ulteriore affinamento anche con l'applicazione del metodo semiprobabilistico agli stati limite. Quindi, vediamo adesso questa muratura moderna come si è comportata rispetto, in caso di evento sismico, rispetto alla muratura esistente. Abbiamo detto, muratura esistente nei terremoti Erpina-Friuli, danni, collassi parziali, totali, con le lacune che abbiamo già evidenziato e che sono ben conosciute. Le stesse identiche problematiche non possono far altro che ripetersi continuamente di fronte a un nuovo evento sismico, l'Aquila 2009, Emilia 2012, vedete sempre qualità della muratura, ribaltamento fuori piano, solai, disarticolati e che non sono sufficientemente collegati con le pareti, fino al più recente Centro Italia del 2016. Questa è un'immagine di Amatrice, Castelluccio di Norcia. Questo per, insomma, fissare il concetto che la muratura esistente, così come l'abbiamo definita, è ben conosciuta, codificata, e si comporterà sempre così di fronte a ogni evento sismico. Quindi in un certo senso non è una notizia dal punto di vista tecnico quello che è accaduto con questi crolli. Quello che magari è più interessante ed è meno conosciuto è cosa ha fatto la muratura moderna in seguito agli eventi sismici. Noi abbiamo fatto appunto anche in collaborazione nell'ultimo caso del Centro Italia delle ricognizioni post-remoto in cui abbiamo rilevato che edifici di diversa tipologia muratura ordinaria portante, armata, tamponamento ne sono usciti nonostante una sequenza veramente impressionante rimanendo agibili e senza danni. Ma questo per noi non è stato una sorpresa perché avevamo avuto la stessa identica esperienza con la ricognizione post-remoto fatta in seguito al terremoto delle miglie a 2012. Qui vedete alcune residenze in muratura ordinaria poi una scuola in muratura armata e qua un'altra familiare. Anche in questo caso tutte le abilizzazioni rimaste edifici rimasti agibili o comunque fruibili. In piccola parte avevamo avuto la stessa risposta anche in seguito al terremoto dell'Akwila 2009 per il quale non abbiamo fatto una ricognizione post-terremoto estesa però avevamo monitorato i cantieri che avevamo in corso e anche in questo caso murature ordinarie queste entrambe che hanno superato senza nessun problema il terremoto 2009. Quindi vedete differenze sostanziali della muratura moderna come risposta sismica rispetto alla muratura esistente sono due cose completamente diverse. Ci tengo a sottolineare poi che nel caso del centro Italia abbiamo anche avuto la possibilità di valutare l'ottima resilienza dei sistemi di muratura a poroton perché? Perché avevamo fatto una ricognizione subito dopo il terremoto del 24 agosto magnitudo 6. Gli edifici i nostri edifici muratura moderna non avevano avuto danni gli edifici vicini in muratura esistente costruzioni esistenti avevano danni parziali parziale collasso collasso parziale danni anche in questo caso. Cosa è successo dopo il terremoto il 30 ottobre che è stato l'altro grosso terremoto della sequenza sismica qua parliamo di magnitudo veramente importanti 6.5 e succede che l'edificio in muratura moderna continua a rimanere in tonso e invece ovviamente le costruzioni esistenti già danneggiate hanno peggiorato proprio il danneggiamento fino ad arrivare al collasso totale. Quindi è un'ulteriore informazione anche questa molto importante perché anche la progettazione più moderna si fa con riferimento a un terremoto a un evento sismico e qui stiamo parlando di edifici che hanno superato una sequenza di circa 60.000 e passa scosse quindi è qualcosa di più la cosa interessante che ricaviamo è che con i nostri sistemi costruttivi in muratura portante ma anche tamponamento sarebbe applicando le informazioni progettuali da norma tecnica i risultati che si possono ottenere sono questi chi volesse approfondire la tematica delle ricognizioni in posta remoto qui c'è l'elenco di alcuni riferimenti bibliografici utili quindi come si ottengono questi risultati per la muratura portante con questi tre step innanzitutto la scelta della muratura poi una corretta progettazione secondo NTC 2008 ora 2018 e certamente anche con una corretta realizzazione in cantiere regola d'arte il quadro normativo attualmente a livello nazionale abbiamo norme tecniche 2018 e relativa circolare del 2019 quindi il quadro normativo è completo entriamo un attimo nelle norme mi interessa sottolineare appunto il fatto che le NTC 2018 non fanno più alcun riferimento alle zone sismiche e questo è importante soprattutto per le zone 4 perché in quelle zone si poteva applicare una progettazione semplificata adesso la progettazione semplificata è è stata mantenuta con leggiare differenze le vedremo tra un attimo ma si applica solo per le costruzioni realizzate in siti con AGS minore o uguali 0,075G attenzione questo parametro non è equivalente a zona sismica 4 perché zona sismica 4 sostanzialmente si basa sull'AGI ma S è il coefficiente che tiene conto della topografia e del sottosuolo quindi banalmente avere un suolo C mediamente deformabile e molto frequente in Italia amplifica del 50% l'accelerazione quindi questo parametro è un po' più complesso da ricavare quindi mi raccomando fate attenzione perché perché ad esempio a Padova che è zona sismica 4 con le NTC 2008 potevo fare la progettazione semplificata invece con le nuove norme AGS è addirittura 0,154 quindi molto superiore il doppio rispetto il limite imposto quindi non posso più fare la progettazione semplificata cos'è la progettazione semplificata è questa slide sono indicazioni che riguardano le zone appunto a bassa sismicità qui appunto che nelle NTC 2008 era zona 4 in che cosa consiste questa progettazione semplificata consiste nel fatto che anziché fare la valutazione delle azioni sismiche si assume che la forza orizzontale indotta da un sismo ipotetico sia il 10% del peso della struttura posso fare solo le verifiche dello stato limite di vita non mi serve la verifica dello stato limite di danno e questa classe di utilità bassa riguarda le strutture tipo cemento armato acciaio non ci riguarda e poi ci dà anche un ulteriore vantaggio la progettazione semplificata perché in zona bassa sismicità fino a due piani posso anche realizzare degli orizzontamenti non infinitamente rigidi vuol dire questa frase e oltretutto posso derogare quindi non applicare i requisiti aggiuntivi per la progettazione sismica che vedremo poi questo vale per tutte le tipologie costruttive vedremo poi quali sono i requisiti aggiuntivi per la muratura portante bene quindi adesso entriamo in quelle che sono le tipologie murarie quindi il primo step dobbiamo conoscere le tipologie di muratura e sapere se vanno correttamente impiegato impiegate per la pericolosità sismica in cui mi trovo ad operare innanzitutto quando facciamo costruzione di muratura portante stiamo parlando di edifici di piccola media dimensione quindi c'è la possibilità di realizzare tutte le murature portanti per i metrali interne muratura ordinaria muratura armata oppure c'è una possibilità molto interessante e gradita dei progettisti quella di fare la struttura mista sostanzialmente è possibile disporre un pilastro centrale per liberare la distribuzione degli spazi o pilastri esterni per un porticato quindi questi lavorano solo per i carichi verticali e si demanda tutto l'assorbimento dell'azione orizzontale particolare quella sismica alle murature perimetrali portanti poi è anche possibile tenere conto della interazione tra i due diversi sistemi costruttivi quindi muratura in questo caso telaio in CA anche per le azioni orizzontali però bisogna svolgere analisi non lineari vedremo anche di questo poi un esempio il tutto per far cosa per non fare necessariamente una struttura a telaio spesso e volentieri con edifici di piccola e media dimensione non essendo semplice trovare una campitura regolare insomma della distribuzione dei pilastri ne risulta la classica selva di pilastri per così dire quindi la muratura portante in molti casi risulta efficace per tanti vantaggi togliere i pilastri significa togliere la gestione dei ponti termici abbiamo la muratura tutta intorno perimetrale vedremo poi che anche usare muratura portante si tolgono le travi i cordoli di cui ci sono indicazioni esplicite nelle norme tecniche vedremo che sono cose completamente diverse molto più piccole molto meno armate rispetto alle travi il tutto ha una conseguenza anche economica realizzare muratura portante è vantaggioso anche da questo punto di vista ok la muratura abbiamo detto quella moderna è costituita da dei materiali elementi resistenti della malta sostanzialmente gli elementi resistenti l'atterizio si classificano in base alle percentuali di foratura e la dimensione del singolo foro quindi la foratura arriva al 15% e i singoli fori non superano i 9 cm quadrati stiamo parlando di elementi pieni il classico mattone passiamo ai semi pieni se la foratura sta sotto al 45% e il singolo foro 12 cm quadrati è classico più 800 questi sono i due fori di presa che sono ammessi il forato il classico piste 100 va fino al 95% di foratura e il singolo foro 15 cm quadrati e la dimensione minima in termini di spessore da garantire che poi vedremo diventerà 24 per la progettazione per tutti per la progettazione le azioni sismiche le malte le malte si classificano in base alla resistenza a compressione m5 vuol dire che resiste 5 MPa una malta per muratura importante deve essere almeno 2,5 MPa di resistenza a compressione può essere prodotta in fabbrica o fatta in cantiere se viene fatta in cantiere è il progettista che deve dare le specifiche di come realizzarla se viene prodotta in fabbrica può essere a prestazione garantita quindi il produttore che ti dice questa malta è una M10 e quindi avrà una resistenza maggiore o uguale di 10 MPa oppure te la può dare in termini di composizione prescritta in base alla composizione io posso risalire se la composizione rientra in questa tabella posso risalire alla classe di malta se no il produttore mi dovrebbe dare anche quella se no devo testare io la malta generalmente il produttore fornisce la prestazione garantita mettiamo insieme adesso i due materiali per creare la tessitura muraria abbiamo il giunto verticale e il giunto orizzontale di giunto entrambi possono essere realizzati in diversi modi in funzione del tipo di blocco che sto utilizzando giunto verticale se ho il blocco liscio farò il classico giunto verticale riempito con malta di circa un centimetro se ho un blocco con la tasca quella tasca dovrà essere almeno il 40% dello spessore del muro e quindi potrò riempirlo di malta completamente e a quel punto è anche assimilabile a un giunto continuo questo solo per la muratura ordinaria non per la muratura armata per la muratura armata mi serve il blocco liscio e infine il giunto verticale può essere a secco quando utilizzo il blocco ad incastro quindi c'è la maschiatura del blocco che garantisce il collegamento non serve malta in questo caso il giunto orizzontale può essere di due tipologie quello classico di circa un centimetro oppure quello sottile di circa un millimetro sostanzialmente quello classico va con tutti i blocchi normali per così dire con i blocchi rettificati sulle superfici di posa è possibile posare la muratura con un giunto di circa un millimetro di malta colla speciale detto questo abbiamo detto tutte le tipologie di muratura ordinaria che si possono combinare perché si possono combinare i giunti orizzontali con i giunti verticali ok la muratura armata fa un po' un mondo a sé stante gli elementi primari sono il blocco che deve essere un P800 cioè 45% di foratura un blocco liscio perché il giunto di malta deve essere di tipo riempito normale la malta deve essere almeno una malta M10 non approfondisco la tematica perché chi è interessato lo invito fin d'ora a seguire il webinar di martedì 17 novembre in cui approfondiremo proprio la muratura armata adesso passiamo ai requisiti e regole per la progettazione per le azioni sismiche è il momento in cui mi trovo a dover a voler realizzare una muratura portante in zone con AGS maggiore 0,0 stante 5G devo rispettare dei requisiti aggiuntivi che riguardano innanzitutto i blocchi la foratura non può essere maggiore del 45% quindi il P800 i setti nell'estensione del piano della parete devono essere rettelinei e continui quindi blocchi che hanno setti obliqui nel piano di estensione della parete vanno esclusi e poi devo garantire delle resistenze il blocco deve resistere almeno 5 megapascali in verticale resistenza caratteristica e 1,5 megapascali in orizzontale riguardo la malta deve essere almeno una M5 vi ricordo che la muratura armata richiede sempre almeno una M10 poi ci sono dei requisiti e delle regole che riguardano l'utilizzo dei giunti il giunto verticale non riempito cioè il giunto verticale a secco col blocco d'incastro si può utilizzare ma solo nelle zone a sesmicità molto bassa GS minore o uguale 0,075G e oltretutto con limitazioni sul numero dei piani e sulle altezze interpiano e massima i giunti sottili che per noi con l'atterizzio significa blocchi rettificati però in generale la muratura realizzata con giunti sottili la classica malta colla di un millimetro sono limitate al massimo a 0,15G e oltretutto con forti limitazioni anche qui sul numero di piani sull'altezza massima di interpiano e dell'edificio questo mette un po' fuori gioco insomma tante soluzioni perché ad esempio se sto facendo un edificio unifamiliare o una zona a giorno a doppia altezza facile che supero questi tre metri e mezzo quindi diciamo che come linea in seguito alle norme tecniche del 2018 Consorzio Porto ha sviluppato prodotti sostanzialmente che liberano il progettista dalla verifica della GS preliminare che non è sempre facile e consentono di realizzare muratura portante in tutte le zone sismiche prestazionale anche da un punto di vista termico come sintesi e riassunto di quello che abbiamo detto finora perché sono tutti requisiti molto semplici ma l'intreccio degli stessi crea una situazione un po' a volte anche complessa cosa succede quindi per le murature portanti in zona a bassa sismicità cioè a GS minore o uguale 0,085G posso utilizzare tutte e tre tipologie di blocco quindi pieni semi pieni forati la malta almeno due e mezzo giunto verticale le tre tipologie indicate attenzione la limitazione sul numero di piani alteze per giunto verticale a secco ricordatevi che la tasca va bene ma non per la muratura armata e i giunti sottili in generale si possono applicare sì ma con limitazione anche qua sul numero di piani alteze interpiano e massima se andiamo nelle zone con accelerazione maggiore di 0,085G ecco che abbiamo delle restrizioni intanto lo spessore abbiamo visto deve essere sempre a 24 almeno ma poi non posso più utilizzare i p700 la foratura è troppo alta la malta almeno m5 m10 per la muratura armata il blocco di incastro cioè il giunto verticale a secco non lo posso più usare la tasca si può continuare a usare per la sola muratura ordinaria niente muratura armata il giunto sottile si può utilizzare ma attenzione solo fino a 0,15G e con limitazioni sul numero di piani alteze interpiano eccetera quindi conoscere dove sto intervenendo sul territorio mi dà già un'informazione importante sulla scelta della tipologia muraria che posso applicare giusto per sintetizzare in maniera schematica quello che abbiamo detto abbiamo creato queste tabelle questa vale per la muratura ordinaria vedete che in zona bassa sesmicità tutti e cinque i sistemi si possono usare media sesmicità diciamo solo tre sistemi e poi per andare a sesmicità maggiore abbiamo solo i primi due sistemi gli altri non si possono usare analogamente la tabella per la muratura armata sostanzialmente l'unica possibilità è blocco liscio con giunti orizzontali verticali tradizionali mi raccomando no blocchi con la tasca per la muratura armata blocchi con i setti obliqui inclinati vanno bene solo per zone a bassa sesmicità quindi non ha neanche senso applicare un blocco di questo tipo per la muratura armata che invece è votata per andare in tutte le zone sismiche e no muratura armata con i giunti sottili infatti tutti i parametri meccanici di progettazione di progettazione presenti in normativa si basano come abbiamo visto all'inizio sullo sviluppo di ricerche e quindi hanno dei riferimenti ben precisi per questo esistono i requisiti che abbiamo discusso finora perché tutte le informazioni che ci sono nelle norme derivano proprio da prove sperimentali e analisi anche post-remoto che focalizzano l'attenzione su questi ambiti di parametri attenzione perché delle volte nelle esposizioni nelle fiere o anche online si trovano molte informazioni riguardo la muratura questo è un esempio blocco per muratura antisismica e vediamo se è una muratura antisismica per esserlo deve questo blocco deve essere un blocco semipieno ipotizzando pure che sia muratura 45% ma questi fori sono senza dubbio superiori alla dimensione massima consentita 12 cm2 quindi non stiamo parlando di muratura antisismica oltretutto il giunto verticale è a secco quindi sicuramente non è antisismica la domanda che ci poniamo a questo punto è però è portante almeno in zona bassa sismicità beh per esserlo dovrebbe essere un blocco forato ma questi fori hanno dimensioni circa dai 20 ai 30 cm2 quindi non è rispettata la condizione della dimensione massima del singolo foro nemmeno per i blocchi forati perciò non è una muratura portante da nessuna parte in Italia neanche in Sardegna che è notoriamente a bassa sismicità quindi attenzione perché cose del genere sono utilizzate poi in cantiere nei progetti e sono responsabilità proprio di voi che ci state ascoltando progettista direttore lavori collaudatore ancora di più dopo il decreto legislativo dell'agosto 2017 dove si fissano proprio i paletti anche di addirittura detenzione e ammende questo perché si parla della sicurezza e quindi non si scherza con la sicurezza e voi mi direte vabbè c'è anche il fabbricante ma il fabbricante vi dà la marcatura CE DOP e risponde di quella in quella non c'è scritto mai da nessuna parte se è antisismica nella zona vostra nell'edificio vostro è il progettista che decide questo è il direttore lavori che accetta i blocchi la malta tutti i materiali in cantiere è il collaudatore che certifica il tutto quindi mi raccomando se avete dubbi non esitate contattate consorzio porto o t2d per avere dei chiarimenti passiamo allora adesso alla organizzazione strutturale della degli edifici che si possono realizzare con muratura portante allora intanto vi ho già detto all'inizio dell'importanza del comportamento scatolare viene ribadito direttamente all'interno delle norme tecniche quindi è necessario individuare muri portanti muri di controvento creare collegamenti ammorsamenti tra le murature collegamenti tra gli elementi di solaio e murature con il cordolo in modo da sviluppare questo comportamento scatolare vi ricordo che i muri portanti sono quelli che reggono sostanzialmente i carichi gravitazionali del solaio i muri di controvento sono quelli disposti parallelamente all'orditura del solaio sono necessari entrambi perché nelle due direzioni chiamiamole x e y ciascuno lavora per assorbire l'azione sismica poi alcuni parametri geometrici nel caso della muratura non armata le pareti che resistono alle azioni orizzontali sono solo quelle lunghe almeno il 30% dell'altezza quindi con 2,70 m devo avere una parola parete da 80 cm dopodiché c'è da rispettare anche la snellessa che non è altro che il rapporto tra altezza della parete e lo spessore con un muro da 30 cm posso raggiungere i 6 metri poi importante abbiamo detto i collegamenti qui vedete qualitativamente l'effetto della presenza del cordolo e dell'ammorsamento d'angolo e l'effetto del solaio rigido sono importanti mi interessa sottolineare il comportamento diverso che si ha in funzione del diaframma orizzontale quindi un diaframma flessibile cosa fa? qui abbiamo tre pareti un'azione sismica a livello del solaio F che si va a ripartire su queste tre pareti in funzione delle aree di influenza perché il diaframma è flessibile e quindi la distribuzione avviene come per i carichi gravitazionali la parete al centro che sia più lunga più corta più resistente o meno la parete 2 è quella che si prende la quota parte maggiore della forza sismica F cioè F mezzi stessa distribuzione di pareti stessa forza sismica ma diaframma rigido qui l'azione F si ripartisce sulle tre pareti in base alla rigidezza delle stesse la parete più corta è quella meno rigida è quella meno resistente prenderà la quota parte più bassa di F quindi vedete che avere un diaframma rigido o un diaframma flessibile a parità di tutte le altre condizioni può fare molta differenza passiamo ai criteri di progetto invece da applicarsi per la progettazione per azioni sismiche questi riportati nella slide sono indicazioni generali che valgono per tutte le costruzioni e tipologie costruttive e tutti i materiali quindi le costruzioni devono essere quanto più iperstatiche quanto iperstatiche possibile garantendo regolarità in pianta e in altezza la regolarità in pianta cosa si intende le piante devono essere compatte devono avere simmetria in termini di massa rigidezza non devono questa regola significa che non devono essere troppo allungate gli orizzontamenti devono riuscire a trasferire le azioni orizzontali e poi la regolarità in altezza i sistemi resistenti alle azioni orizzontali quelle sismiche si è bene che si estendano su tutta l'altezza della costruzione quindi dalla fondazione alla copertura e poi anche qui variazioni di massa e rigidezza graduali non troppo elevate da un piano successivo anche per evitare effetti di piano soffice queste indicazioni generiche perché ve le dico perché a mio parere spesso ce le dimentichiamo insomma l'obiettivo di avere strutture iperstatiche regolari in altezza impianta impianta in altezza vale per tutte le tipologie costruttive non solo per la muratura o per un altro sistema costruttivo vale per tutte e nel caso della muratura la normativa non fa altro che ribadire queste esigenze piante compatte simmetriche evitiamo pareti in falso perché vogliamo continuità delle pareti dalla fondazione fino alla copertura quindi quanto più possibile cerchiamo di rispettare tutte queste regole poi bisogna chiaramente evitare coperture o orizzontamenti spingenti quindi andiamo verso soluzioni di questo tipo se sono spingenti devo trovare il modo per assorbire la spinta e poi ci sono alcune regole geometriche per la muratura ordinaria e per la muratura armata prima dicevamo snellesse 20 adesso la snellessa è 12 e 15 quindi quei 30 centimetri di prima non facciamo più i 6 metri che dicevamo con la snellessa 20 ma 3 metri 60 4 metri 50 vogliamo avere più altezza beh devo aumentare lo spessore della muratura distanza tra i solei successivi 5 metri e questo è un aspetto molto importante interessante le strutture di fondazione vanno fatte in cemento armato e il piano cantinato seminterrato può essere la scatola di piano interrato seminterrato può essere considerata fondazione quindi ad esempio posso fare l'interrato il garage quella lì diventa in cemento armato quella lì diventa la fondazione della mia costruzione in elevazione in muratura chiaro che le pareti in muratura devono scaricare la loro sollecitazione in modo opportuno su questa scatola in cemento armato altezze massime dei nuovi edifici non c'è limite fin tanto che la verifica è soddisfatta ricordiamo però per quanto riguarda il giunto verticale a secco e i giunti sottili la limitazione sia sul numero dei piani che sulle altezze interpiano e totali dell'edificio ecco qui una regola di dettaglio che è quella che anticipavo all'inizio il cordolo è cosa ben diversa da una trave in cemento armato il cordolo è costituito da 4 fi 16 staff fi 6 ogni 25 cm e l'altezza è pari all'altezza del solaio strutturale e la larghezza invece è pari allo spessore della muratura portante è consentito l'arretramento secondo questa secondo questa regola che in buona sostanza significa che all'aumentare dello spessore della muratura l'arretramento aumenta quindi dai 30 cm che ho 6 cm di arretramento arrivo fino ai 45 cm che ho 9 cm di arretramento questo è utile come vedete anche nell'immagine proprio per predisporre davanti dell'isolante per evitare eliminare totalmente il ponte termico quindi è tranquillamente possibile anche realizzare una muratura monostratto da 40-45 cm che fa da struttura che garantisce l'aspetto termico mettendo anche la soluzione del ponte termico e abbiamo un risolto insomma altra regola di dettaglio molto importante e abbastanza famosa è la regola del metro d'angolo che è richiesta per la muratura ordinaria le nuove norme tecniche hanno un po' modificato anche questo punto allora all'incrocio d'angolo di pareti perimetrali e non da altre parti è richiesto appunto questo metro d'angolo o comunque almeno un terzo dell'altezza un terzo dell'altezza della parete in questione quindi si va a prendere il minimo tra un metro e questo terzo di altezza l'obiettivo con questi metri d'angolo qual è? è garantire il comportamento scatolare e quindi la normativa apre una possibilità cioè quella di dire bene possiamo non avere il metro d'angolo però ci devono essere idonei provvedimenti che devono garantire cosa? il collegamento tra le pareti e il comportamento scatolare della struttura quindi ma in questo caso Flavio gli idonei provvedimenti quali sono? per capirci beh gli idonei provvedimenti non sono specificati né nelle normative né anche in circolare però e devo dire ha anche senso perché l'idoneo provvedimento è sicuramente da calibrare in base alla pericolosità sismica della zona in cui si sta lavorando al tipo di edificio che stiamo facendo e al tipo di muratura che sto realizzando però per esempio potrebbe essere se mi manca se questa parete invece di essere lunga un metro fosse più corta io lì potrei predisporre dell'armatura orizzontale su queste due pareti o magari fare questo piccolo setto in muratura armata in modo da creare un collegamento anche con le armature verticali fino a magari arrivare a mettere un pigliastrino d'angolo quindi in relazione al caso il progettista ha la possibilità di evitare il metro d'angolo ma deve valutarlo sicuramente in maniera specifica le possibilità sono queste armatura orizzontale muratura armata solo in quel punto e direi un pigliastrino d'angolo chiaro sì la regola del metro d'angolo non è richiesta per la muratura armata un po' adesso grazie alla domanda effettivamente utile ho anticipato il fatto che se io utilizzo muratura armata perché non devo predisporre questa regola del metro d'angolo perché proprio il tralicci di armatura che sono all'interno della muratura armata creare a garantire il collegamento tra i pareti e il comportamento scatolare della struttura quindi a priori la muratura armata è dispensata dal metro d'angolo passiamo adesso alla sostanzialmente alla progettazione che noi non avremo tempo di approfondire e di sviluppare ci occuperemo degli edifici semplici delle costruzioni semplici che come vedremo con tre slide ci permette di fare la progettazione operazioni non sismiche e sismiche di un edificio mi interessa però sottolineare che per quanto riguarda i metodi di progettazione e i metodi di analisi sono quelli classici che valgono per tutti gli altri sistemi costruttivi e i parametri che si adottano qui ho riportato delle tabelle da esempio il fattore di comportamento e la capacità di spostamento sono tutti parametri ben collaudati ben garantiti con ampio margine di sicurezza che arrivano dalle ricerche sperimentali e anche dalle osservazioni post-remoto che abbiamo visto quindi sviluppare un'analisi estesa strutturale da ottime garanzie di riuscita volendo poi ricadere su una progettazione semplificata costruzioni semplici abbiamo detto con tre slide si progetta un edificio e tra l'altro come vedete se avete voglia di leggere un attimo i vari punti sono per lo più regole geometriche che arrivano dalla pratica non so per esempio la planimetria che deve essere iscrivibile in un rettangolo con rapporto tra i lati un terzo è il discorso di prima piante non troppo allungate compatte limitazione giustamente sul numero di piani sto facendo questa slide mi permette di fare la progettazione per azioni non sismiche non devo fare nient'altro quindi chiaro mettere qualche limitazione geometrica di questo tipo e infine devo fare la verificare questa diseguaglianza che è una sorta di verifica le tensioni ammissibili di un tempo tanto che il coefficiente parziale di sicurezza è praticamente quello n che cos'è il carico gravitazionale verticale che arriva fino alla base a è l'aria di tutte le pareti resistenti devo verificare che questa tensione sia minore della tensione in termini di resistenza la resistenza della muratura la potete calcolare con l'app 2 e il porto oggi non parleremo di determinazione delle proprietà meccaniche però questa app 2 appunto è molto semplice da utilizzare e vi dare la resistenza con questa slide 4 indicazioni geometriche e una diseguaglianza avete finito la progettazione per azioni non sismiche se vogliamo fare anche la progettazione per azioni sismiche dobbiamo aggiungere queste altre due slide che sono per lo più anche in questo caso requisiti geometrici come non so l'interasse tra una parete e la successiva non deve superare i 7 metri per la muratura ordinaria e 9 per la muratura armata quindi anche insomma 7-9 metri sono belle luci insomma e un'altra regola è questa il 75% di carichi gravitazionali almeno deve essere portato dalla muratura il che mi consente già di avere ad esempio dei pilastri interni basta che questi portino non più del 25% dei carichi verticali poi una disuguaglianza del tutto analoga a quella di prima solo che cambiano un po' i termini perché cambia la combinazione di carico e infine ultima verifica questa tabella mi dà le percentuali di muratura minime da garantire in funzione della azione sismica del sito in cui sto costruendo e del tipo di struttura che sto realizzando muratura ordinaria numero di piani muratura armata numero di piani banalmente se ho un'accelerazione di 0,08g si entra in questa colonna voglio fare una muratura ordinaria di due piani devo garantire il 4% di muratura nei due versi in direzione x e in direzione y cos'è sta percentuale di muratura e come si calcola si calcola in maniera molto semplice tutte le aree delle pareti resistenti in direzione x a x diviso l'area di impalcato esclusi gli aggetti espressa in percentuale è la percentuale di muratura in direzione x analogamente si fa in direzione y entrambe devono essere superiori al minimo riportato in questa tabella vedete qua che se uso muratura armata a parità di condizioni ho un vantaggio perché mi serve meno muratura ecco garantire il 4% 4,5% di muratura è abbastanza semplice quindi è un metodo sicuramente efficace molto semplice perché con Translide si fa la progettazione dell'edificio operazioni non sismiche e sismiche e se anche si esce da qualcuna di queste regole come ad esempio ce l'abbiamo qua la percentuale minima di muratura non significa che l'edificio non sia realizzabile bisognerà semplicemente fare la verifica estesa queste indicazioni comunque essendo indicazioni molto semplici per lo più geometriche si possono utilizzare anche come in fase di predimensionamento se uno sta partendo con una progettazione ex novo insomma può risultare molto interessante iniziare a seguire questi parametri geometrici ok passiamo quindi all'ultimo step sostanzialmente che è quello della corretta esecuzione cantiere poi vediamo delle realizzazioni boh queste foto parlano un po' da sole no però magari le commento un attimo arrivare a livello dell'imposta del solaio vabbè questa è una trave quindi questo è un tamponamento in realtà ma non si fa neanche quel tamponamento una cosa del genere muratura portante arrivata a livello di imposta del solaio in questo modo assolutamente no un blocco girato a fori orizzontali no bisogna prendere il blocco principale tagliarlo all'altezza giusta e posarlo non si vuole fare così si trova il blocco che mi va bene dell'altezza giusta ma deve avere delle proprietà maggiori o uguali del blocco che sta sotto i giunti cioè questi non sono i giunti di Malta queste sono porcherie cioè non bisogna vedere attraverso il muro bisogna riempirli e magari anche farli un po' più sottili cioè lo spessore anche del giunto è importante non deve essere a caso deve stare intorno ai 5-15 mm poi specifico bene nell'ambito di un intero edificio ci possono tranquillamente essere magari dei giunti un po' più grossi o un po' irregolari ma nell'ambito dell'intero edificio deve essere una piccola percentuale questa non è una tessitura che deve essere realizzata sistematicamente ok quindi dimentichiamoci queste cose questo è un cantiere da realizzare normale questa tra l'altro è una muratura armata vedete appunto l'arrivo a livello di getto del solaio nel cordolo con il blocco tagliato giunti orizzontali e verticali riempiti abbastanza regolari qua vedete si il giunto verticale non è perfetto ma questa è una costruzione muratura portante perfetta importante poi anche in termini di esecuzione del cantiere i dettagli costruttivi spesso si parla di dettagli costruttivi e qua abbiamo anche noi raccolto dei dettagli costruttivi in termini di ponti termici li trovate lo faccio vedere li trovate sempre dalla home page porton scendete qui news approfondimenti l'ultimo quaderno tecnico dei punti termici per chi è interessato se lo scarica approfondisce ma qui mi interessa sottolineare che soprattutto per l'attacco in fondazione a parte il fatto che il ponte termico visto che stiamo parlando di muratura qui finisce la fondazione a parte la muratura portante questo è un eventuale capottino già così il ponte termico risulta corretto ma vogliamo migliorarlo non devo assolutamente mettere 5 10 15 centimetri di altro materiale come vetro cellulare calcetruzzerato autoclavato altre cose di questo tipo che resistono 5 10 volte in meno del mio blocco portante lì cosa si fa se voglio migliorare la prestazione si va a riempire con perlite sfusa la foratura del blocco del primo corso voglio farlo anche del secondo lo farò anche del secondo quindi quando è necessario questo si deve fare non si deve sostituire con un materiale molto meno resistente assolutamente questo vale per la muratura portante in maniera assoluta ma vale anche per gli elementi non strutturali in generale anche per i tamponamenti perché anche i tamponamenti restano in sede grazie alla resistenza verticale quindi mi raccomando qui un po' di indicazioni su chi volesse su chi si avvicina per la prima volta o chi vuole approfondire la realizzazione e progettazione di costruzioni in muratura un po' di riferimenti bibliografici sulle riviste murature oggi anche sul nostro sito si trovano tante soluzioni anche all'interno di altre riviste o conferenze quindi per realizzare edifici ex novo ma anche per realizzare ristrutturazioni miglioramenti adeguamenti qui delle foto che fanno vedere un edificio che qui ha subito il terremoto dell'Emilia 2012 quindi vedete una muratura scadente poco resistente completamente devastata sostituita metro dopo metro da una soluzione muratura e laterizio e questo è stato fatto un adeguamento sismico ma d'altro canto anche adesso in tempi di applicazione di sisma bonus e super bonus la demolizione e ricostruzione si attua come ristrutturazione e quindi è perfetto per l'applicazione di un sistema in muratura perché in ogni caso si va a realizzare un involucro che è prestazionale sotto tutti i punti di vista oggi qua parliamo di quello strutturale in altre webinar si è parlato degli altri aspetti termico acustico va benissimo anche sulle strutture miste dicevo all'inizio la struttura mista si può realizzare per tante ragioni per liberare la distribuzione interna o come in questo caso per gestire dei balconi dei ballatoi questa è una trifamiliare vedete qua c'è il telaio in cemento armato che è stato considerato collaborante con il resto della struttura in muratura armata quindi l'analisi svolta è stata un'analisi non lineare e la cosa interessante è vedere che questo edificio ha poi superato senza nessun danno il terremoto dell'Emilia 2012 che ha sviluppato accelerazioni anche superiori a quelle di progetto quindi stiamo parlando di sistemi costruttivi metodi progettuali anche per le strutture miste talmente avanzati e a favore di sicurezza che garantiscono appunto di superare sequenze sismiche perché anche quella delle miglia è stata una sequenza sismica due terremoti di magnitudo 5859 e tanti altri migliaia di altri terremoti inferiori e li supera senza danni ok quindi la conoscenza sui sistemi costruttivi in muratura portante in datterizio è arrivata a questo punto molto molto utile e interessante si possono realizzare scuole un po' di riferimenti sulla rivista chi vuole approfondire e segnalo che da un paio di mesi abbiamo pubblicato la raccolta dei progetti che hanno partecipato al concorso premio Porto 2019 e ci sono più di 40 realizzazioni e sono interessanti perché si trovano buone pratiche idee progettuali e applicazioni dei sistemi in muratura Porton anche questo scaricabile direttamente dal sito basta andare in home page alla seconda voce si arriva qua e si scarica questo è interessante anche perché l'obiettivo del consorzio Porto in Italia è stato quello di valorizzare i progetti e i progettisti che nonostante la crisi nonostante adesso anche il covid si continuano a realizzare arrivando insomma a fare architetture in letterissima di qualità vi segnalo che è in lavorazione la seconda edizione del premio Porto quindi vi invito fin d'ora ad archiviare i vostri progetti realizzati con soluzioni delle aziende Porton per sottometterli quando le candidature saranno aperte con questo concludiamo sottolineando che quindi la muratura portante di letterista che abbiamo visto oggi è uno dei sistemi costruttivi più studiati più normati e abbiamo visto anche con le ricognizioni post-remoto più efficaci per realizzare costruzioni sicure resilienti e oltretutto duratura come si fa l'abbiamo visto con i tre step scelta della corretta tipologia di muratura in relazione a pericolosità sismica dell'edificio progettazione secondo norme tecniche 2018 dall'organizzazione strutturale dove è determinante lo sviluppo del comportamento scatolare fino anche alla metodo di progettazione semplificato delle costruzioni semplici ottimo anche come metodo di predimensionamento e non da ultimo la realizzazione in cantiere a regola d'arte e per tutto il percorso Consorzio Porto insieme a T2D mettono a disposizione un supporto continuo un supporto tecnico che è molto importante ed efficace che T2D spinge molto in cui crede molto di cui vi parlerà adesso l'architetto Mazzucchelli a cui lascio la parola grazie grazie Flavio un piccolo preambolo su quanto detto dall'ingegner Mosel noi come ufficio tecnico cerchiamo di supportarvi nella scelta dei vostri progetti abbiamo visto quante sono le tipologie costruttive per quanto riguarda le murature portanti o le murature armate noi per quanto riguarda il servizio che possiamo offrirvi è sicuramente supportarvi nella determinazione dei parametri meccanici nel Fai passare le slide determinazione dei parametri meccanici in un calcolo preliminare delle armature come abbiamo visto dall'ingegner Mosel da uno studio di fattibilità quindi abbinare le vostre problematiche di progettazione quindi le vostre scelte architettoniche a una fattibilità per quanto riguarda uno spessore di muratura piuttosto che un altro o se è caso di passare direttamente la muratura armata o la muratura ordinaria possiamo farvi anche dei particolari costruttivi in AutoCAD per quanto riguarda la risoluzione dei particolari costruttivi e qui mi abbino anche al discorso termico perché in questo caso è strettamente correlato l'aspetto della parte sismica con la parte di risoluzione nel caso di ponti termici quindi possiamo studiarvi anche caso caso per caso e poi non non vi abbandoniamo sicuramente in caso di assistenza in cantiere quindi possiamo tranquillamente uscire e vedere sul posto sul luogo quelle che sono le vostre necessità proprio specifiche per ogni tipo di cantiere in base al luogo in base alla condizione climatica ecco mi piace sottolineare questo aspetto perché comunque noi siamo presenti in tutta l'Italia quindi potete tranquillamente prenotare una vostra consulenza una consulenza personalizzata proprio cucita ad hoc per ogni vostro tipo di progetto ogni tipo di soluzione vi ricordo come vediamo in sovraimpressione che se mandate una mail all'indirizzo tecnico t2d chioccio tcla.it o telefonate al numero in sovraimpressione sarete subito contattati o comunque avrete una risposta immediata alle vostre esigenze lascio la parola adesso a Terninando che farà da moderatore per quanto riguarda le domande grazie grazie Luca ho raccolto un po' di domande che ci sono state sottoposte finora dai partecipanti di oggi e direi di iniziare facendo comunque affidamento a quanto hai detto ovviamente per tutte le questioni puntuali o alle risposte a cui eventualmente non dovessimo dare una risposta completa oggi a fare riferimento al servizio tecnico di t2d per gli approfondimenti necessari allora un partecipante oggi innanzitutto ci chiede se è confermato l'obbligo di deposito al genio civile e dei calcoli delle strutture in muratura portante per le zone a sismicità 4 cose del genere vengono gestite amministrativamente a livello locale quindi a livello tra regionale e provinciale se no addirittura più dettagliato ma a quanto mi risulta non è non sapevo che ci fosse un obbligo di deposito in zona sismica 4 quindi può essere che ci sia qualcosa in evoluzione ma al momento non mi risulta no confermo anch'io quello che ha detto Flavio d'accordo quindi eventualmente invitiamo la cosa migliore è sempre la cosa migliore è sempre verificare con l'ufficio comunale con i propri uffici insomma di riferimento e riguardo alle costruzioni semplici l'altezza di interpiano massima che possiamo se puoi ritornare un po' sulle cose che avevi fatto anche a vedere è 3 metri e mezzo quindi non possiamo superare i 3 metri e mezzo netti eccola qua no chiaramente la costruzione semplice è proprio concepita con queste limitazioni proprio perché non si fa nessun calcolo quindi per questo perciò in generale ipotizziamo rispettate tutte le condizioni tranne i 3 metri e mezzo che sono 4 purtroppo l'edificio non è più classificabile come costruzione semplice al 99% si fa la verifica estesa e torna verificato quindi in quest'ottica si usa come predimensionamento per esempio ok però interpiani superiore scusa dico solo una cosa interpiani superiore a 3 metri e mezzo è difficile eventualmente io posso fare un'altezza doppia e faccio un cordo alla metà chiaro allora un professionista ci segnala che il DPR 380 obbliga il deposito anche in zona 4 prendiamo come notizia verificheremo sì allora altra domanda in una delle slide un professionista ci chiede aver visto un SR e ci chiedeva in pedice e ci chiedeva che cos'era un cosa non ho sentito in pedice c'era un SR non so se in che slide si riferisca non saprei almeno l'argomento bisogna sì va bene li invitiamo eventualmente a specificarci su che tema era questa indicazione che cercava ci chiedono anche per la muratura non portante i blocchi vanno posati con setti verticali no esiste la muratura di temporamento può essere può essere realizzata con blocchi a fori orizzontali ma a dire la verità anche la muratura portante si può fare con blocchi a fori orizzontali è che la resistenza è abbastanza bassa e quindi non ha senso perciò per esempio tornando tornando nella in questa immagine questo proprio proprio non si deve fare non parlo dell'aspetto termico men che meno di quello acustico perché è una cosa del genere terribile dal punto di vista acustico ma sostanzialmente guardando questa immagine qui abbiamo fori un blocco a fori verticali che avrà resistenza non so almeno 10 megapascali e questo qua in orizzontale pur considerando che è anche abbastanza robusto resisterà meno della metà forse quindi no non si deve fare una cosa del genere oltretutto sti fori sono disposti nel senso sbagliato se uno volesse fare anche un tamponamento a fori orizzontali ovviamente deve essere nell'altra direzione in modo che non ci sia collegamento interno esterno attraverso il foro questo per motivi acustici ma anche termici umidità visto che abbiamo delle slide che mostrano proprio dei giunti di Malta un professionista ci chiede se nei giunti orizzontali tra i corsi dei blocchi la Malta deve coprire per intero la superficie dei blocchi ci scrive lo chiedo perché la consuetudine locale era di diciamo spalmare la Malta con delle cazzolate solo sui margini esterni ed interni dei corsi e non su diciamo tutta la superficie allora in realtà cioè l'ideale sarebbe stenderla per completamente proprio poi diciamo che stiamo facendo edilizia e non stiamo facendo meccanica di precisione quindi diciamo che quel 10% di tolleranza lo concediamo l'interruzione può anche essere maggiore quando diventa maggiore le norme tecniche oggi consentono anche di valutarne l'effetto in termini sulle resistenze quindi si potrebbe anche tenerlo conto dal punto di vista progettuale diciamo che tra il 10 e il 20% insomma è accettabile toglie 10% fino al 30% direi ci si può arrivare tenendo conto di una riduzione ma mi raccomando non ci deve essere su 30 cm di muro 5 cm ai lati e 20 cm di vuoto questo no soprattutto per fare muratura portante quindi l'interruzione standard insomma da cantiere fatto a regola d'arte e in caso di muratura armata nel caso di muratura armata il giunto verticale e orizzontale diciamo la circolare da un'informazione dice di volerlo completamente riempito quindi l'obiettivo è lo stesso garantire la massima continuità diciamo che per la muratura armata e siccome richiede la muratura una prestazione maggiore allora il giunto diventa anche un po' più importante quello che si fa in cantiere comunque se da un'interruzione minima non è che cambia l'esistenza di quella muratura armata poi bisogna anche allora un conto è quello che ci viene detto in maniera estremamente dettagliata dalle norme nelle norme già ci parlano tanto dei giunti però non è che possono arrivare a dettagliare ogni cosa in quella parte lì interviene il progettista il direttore lavori che se sto facendo un lavoro che ha un piano che è un garage piuttosto che è pericolosità sismica molto bassa teniamo conto di tutti i parametri che intervengono in linea generale vale quello che dicevo però insomma teniamo conto di cosa stiamo facendo del fattore di importanza e della pericolosità sismica qualcuno ci chiede ma con i seti verticali la malta non cade nei fori il giunto copre solo il perimetro dei fori no la malta ha una proprietà praticamente l'adesione stessa della malta fa sì che rimanga in superficie la distribuzione dei fori è appositamente uniforme quindi no non cade quando si va a disporre il giunto di malta e si posa il blocco sopra un po' di malta penetra può penetrare nei fori dei blocchi orizzontali e verticali questo da un punto di vista strutturale è pure positivo e quindi no non cade anche perché la percentuale di frattura del 45% fino al 55% non si c'è più laterissio che aria e quindi ok e invece la scatolarità della struttura ci scrive un partecipante comporta ammorsamenti tra orizzontamenti e strutture verticali e iperstaticità strutturale però il tetto non deve risultare spingente quindi non ammorsato rigidamente le strutture verticali in che modo si può tenere questo obiettivo no no il tetto va ammorsato alle strutture verticali il tetto va posato su un cordolo in CA dopo dipende da come viene realizzato il tetto qua intanto c'è l'immagine che ci fa vedere un po' ad esempio non so questo immaginiamocelo questo è un solaio latero cemento e questo è una copertura latero cemento a franelli il cordolo viene a collegare le due cose questo ipotizziamo è una trave una capriata scusate in legno beh questa deve essere ancorata nel cordolo sul o nel cordolo in cemento armato che sta sopra la muratura non va appoggiata solo sulla muratura questa qua è un altro caso dove c'è la trave che può essere in cemento armato può essere in legno e questo può essere tutto questo qua va comunque dentro a collegarsi col cordolo quindi il tetto deve essere collegato col cordolo che a sua volta è collegato alla muratura e è questo che crea tutti questi collegamenti creano il comportamento scatolare anche a livello di tetto e copertura spero di essere stato esaustivo sì penso di sì in una due slide era stato inserito nel testo di una slide che con la muratura armata si poteva arrivare a dimensioni distanze fino a 9 per 9 metri ci chiede un partecipante corretto ma i solai in quel caso che spessore devono avere allora questa è la regola dell'interasse massimo per le costruzioni semplici sì praticamente qua si dà cioè sono quelle regole di origine pratica che appunto danno i paletti su dove distribuire le pareti quante averne nel perimetro l'interasse dei 7 metri e dei 9 metri esteso all'estremo potrebbe essere un 9 per 9 chiaro che a quel punto il limite non è tanto la muratura con l'interasse ma è la dimensione e la tipologia del solaio quindi sì diciamo che può accadere in una direzione che sia utile in 9 metri e nell'altra direzione sarà ordito il solaio che magari sarà il classico 5 metri 9 metri un altro un altro esempio così mi viene in mente potrei avere potrei avere un pilastro e quindi la ripartizione di questi 9 per 9 metri bisognerebbe verificare se poi quel pilastro porta minore o uguale del 25% di carichi verticali quindi cioè ci sono tante casistiche che si intersecano bisogna confrontarle tutte ma nella muratura armata ci chiedono si possono usare degli architravi prefabbricati sì certo perché no sì ok è sufficiente è sufficiente se si intende cioè c'è l'apertura vicino all'apertura c'è l'armatura verticale questi architravi di solito vengono messi o di fianco alla barra se proprio passa di lì e intralcia se no appunto la barra passa un po' più là quello dipende un po' dal progetto del sistema costruttivo però magari l'architetto Mazzucchelli può aggiungere qualcosa il 99% dei casi si utilizzano gli architravi col fondellin cotto quelli classici che hanno la base da 12 in altezza su 8 cm la regola è quella che se noi abbiamo un'apertura di un metro comunque dobbiamo prendere almeno un architrave di un metro e cinquanta che abbia un appoggio minimo di 25 cm per parte altra invece questione l'attacco a terra ci sono due domande che riguardano questo aspetto ma soprattutto dal punto di vista della portazione dall'acqua di risalita come proteggere dall'acqua di risalita e un'altra domanda è se è possibile inserire eventualmente una guaina tagliamuro alla base della muratura si si può sostanzialmente nella foto che adesso mostro qui si vede proprio una impermeabilizzazione alla base tra fondazione e muratura in elevazione poi a seconda c'è chi la mette solo qui c'è chi la mette solo qui chi la mette in entrambi i corsi la soluzione migliore è comunque mettere una come dire la catramina diciamo quindi una impermeabilizzazione liquida in modo da conservare un po' di asperità del calcio estrusso in superficie e ridurre al minimo lo spessore si possono usare malte impermeabilizzanti quindi si possono anche utilizzare mi sfugge il termine ma sono sostanzialmente sempre di tagliamuro ma anche rigidi e bisabbiati insomma di soluzioni ce ne sono tante si possono usare abbiamo avuto anche conferma nel ricognizione di posta remoto Emilia dove sostanzialmente vengono messi sistematicamente all'attacco in fondazione dopo il primo corso e quindi i risultati e i riscontri li abbiamo visti sul territorio con eventi sismici reali edifici reali il nostro suggerimento è quello appunto di partire membrana liquida prima della fondazione e poi bisogna anche ricordarsi che magari anche usando le malte opportune nella prima stesura di letto di Malta e poi ci sono anche i casi in cui servirà disporre una impermeabilizzazione di fianco esatto c'è la parte di risalita dell'acqua per capillarità ma c'è anche la parte laterale da proteggere e quindi lì ci sarà un marciapiede probabilmente quindi serve una guaina anche in verticale a meno che non si adottino sistemi diversi particolari l'innesto ci chiedono su una muratura o su un pilastro in mattoni esistente come deve essere realizzato per la muratura portante e anche nel caso della muratura armata si può innestare ad esempio per la muratura armata l'armatura orizzontale nel pilastro è realizzato in mattoni diciamo che l'ammorsamento migliore in termini di muratura è sempre il fatto di cucci scucci quindi un blocco che entra parzialmente nel muro e quello esistente che entra un po' in quello nuovo quindi creare questo ammorsamento a pettine per così dire se c'è anche se c'è anche dell'armatura che va a creare il collegamento con alcuni giunti di malta poi lì dipende più che altro come è il muro esistente in base a come è il muro esistente si può fare anche quel tipo di ammorsamento però intanto sì un ammorsamento a pettine ma serve sempre impermeabilizzare ci chiede un professionista beh dipende se va bene rispondi tu oppure dipende anche dal dal terreno se è un terreno asciutto se è un terreno pieno di assorbimento d'acqua è logico che soprattutto sul verticale io penserei di fare un'impermeabilizzazione perché comunque gli acquazioni ci sono sempre più più sovente quello è un punto comunque di andare a proteggere una domanda un po' all'altra ma un professionista ci chiede se un geometra può fare la direzione lavori strutturale per fabbricati in muratura nel senso che ha visto anni fa diversi lavori diretti in questo modo ma ci chiede se è possibile farlo anche oggi è una di quelle ambiguità che nella realtà non sono ancora così chiari e limpide chiara e limpide quindi diciamo che la parte di direzione lavori strutture è un po' correlata allo strutturista sostanzialmente quindi non c'è una risposta netta definitiva ma non dipende da noi dipende le norme d'accordo allora siamo giunti alla conclusione credo che abbiamo esaurito tutte le domande e direi che ah beh c'è qualcuno che aggiunge se nel caso di un ingegnere junior questa cosa è possibile o resta sempre in quell'ambito non definito dalla normativa ingegnere junior non l'ho mai è la prima volta che mi arriva sta domanda e quindi non la saprei di primo di primo acchito direi che può perché diciamo che comunque ha un titolo di laurea quindi e probabilmente anche iscritto all'ordine e quindi cioè se vuoi far professione è iscritto all'ordine quindi penso di sì d'accordo allora siamo giunti a conclusione direi con le domande siamo andati anche abbastanza oltre l'orario che ci eravamo dati ma ci fa piacere ovviamente aver dato risposte ai quesiti che sono giunti comunque vi ricordo che riceverete le slide lì vedrete avrete nuovamente i riferimenti a cui contattare i tecnici di T2D per eventuali altre richieste o domande o chiarimenti dubbi e in quel caso ovviamente riceverete risposta via mail o via telefono ecco qui i riferimenti se avete bisogno di prendere nota ma li troverete anche nelle slide che riceverete a breve io vi ricordo ancora una volta l'appuntamento della prossima settimana il 17 novembre sempre a partire dalle ore 17 l'ha già annunciato anche ve l'ho posto ve lo trovate il link direttamente nel pannello di GoToWebinar e se volete iscrivere potete farlo già fin da ora così riservarvi il posto al prossimo martedì vi ricordo anche che eventualmente sul nostro canale youtube edicomnews che vi posto anche questo come link trovate dei video di ulteriori webinar che abbiamo realizzato con i tecnici del consorzio porto e con T2D sulla progettazione e sulla costruzione con la muratura e quindi se volete rivedere qualcuno di questi svolti precedentemente potete visualizzarli io a questo punto vi ringrazio per essere stati con noi fino alla fine e anche così numerosi vi ringrazio per le domande che speriamo di essere stati esostivi con le risposte ringrazio ovviamente l'ingegnere Flavio Mosle del consorzio Porton e l'architetto Luca Mazzucchelli dell'azienda T2D e ci diamo appuntamento per chi vorrà esserci a martedì prossimo sempre alla stessa ora con il prossimo webinar in cui affronteremo la progettazione sempre delle strutture in muratura ma parleremo approfondiremo sempre con l'ingegnere Mosle e Luca Mazzucchelli proprio della muratura armata quindi io vi auguro una buona serata e vi saluto buonasera a tutti è grafico a tutti